salve a tutti e benvenuti sul canale creare con sud est per chi non mi conosce io mi chiamo alina e oggi non sarà un classico video tutorial oggi vorrei condividere con voi ciò che vorrei realizzare questo mese di febbraio oggi siamo appunto al primo di febbraio quindi mi sono scritta un po tutti i progetti che vorrei realizzare questo mese con quale andiamo a vedere un attimino cosa ho in mente per questo mese prima di cominciare vi informo che il maglione che ho indosso magari così evitiamo anche le domande il maglione che ho indosso è il maglione polar express eccolo qui ve lo mostro come mi sta come calza vedete bello largo bello comodo è un maglione realizzato con il filato vip di lana gatto qui abbiamo 80 per cento di lana merino extra fine 20 per cento di cashmere un meraviglioso filato morbidissimo e abbinato con una piccola paillettina all'interno sempre lana gatto paellettes ho utilizzato quindi il filato vip a doppio filo più un filo di paillette lavorando tutto a tre fili insieme giù nell'info box vi alleggo il link del tutorial del maglioncino polar express chi preferisce il formato pdf anche disponibile da scaricare sul nostro sito come anche tutto l'occorrente potete scaricare dal nostro sito merceriasudest.it giù nell'info box cliccate sulla scritta altro proprio sotto al video qui la scritta altro cliccate su si apre box informazioni e all'interno troverete un po tutte le informazioni che appunto accompagnano il video ho utilizzato per la mia taglia 10 comitoli del vip e 6 comitoli di paillette quindi mi calza così fatemelo sapere nei commenti come lo vedete se vi sembra un maglioncino piuttosto carino da realizzare tutti quanti insieme ora invece passiamo ai progetti che vorrei realizzare questo mese parto innanzitutto da uno molto particolare sempre un maglioncino da adulti quindi andremo a utilizzare di nuovo la paillette ma in questo caso un filato di lana gatto camel hair in questo caso ha la composizione di 60 per cento di lana merino extra fine 40 per cento di cammello quindi particolarissimo e vi vado a mostrare ciò che ho già avviato come lavoro perché questo qui è un lavoro che ho già avviato e quindi ci sto lavorando proprio adesso ed ecco la parte che ho già realizzato questo sarà proprio il primo primissimo lavoro che vorrei terminare questo mese come ho detto un maglione da adulto e qui abbiamo il punto pavone un maglione ispirato al modello di brunello cucinelli e abbiamo una paillettina proprio piccolissima che luccica appena un po' quindi di quel effetto che si vede non si vede insomma molto bello come effetto il lavoro è questo qui vedete il filato ha un leggerissimo pelo molto delicatissimo veramente un filato meraviglioso e questo sarà uno dei miei primi progetti che vorrei terminare questo mese piuttosto in fretta proprio per permettervi realizzarlo insieme a me uno dei prossimi progetti che andrei a realizzare qui ho soltanto dei gomitoli pronti e poi li andrò a lavorare successivamente non appena avrò terminato il maglione che è proprio il primo che vorrei pensarci il prossimo andiamo a vedere il filato di super 8 mondial con questo qui invece vorrei realizzare una tutina una tutina da neonati con le taglie come sempre a partire da zero mesi fino a un 12 mesi di età 9 12 mesi sicuramente ci arriveremo un colore tortora per realizzare questa tutina un po unisex è un colore piuttosto adatto sia maschietto che la femminuccia un colore di moda quindi ho optato per questo proprio per dargli un qualcosa di diverso non il classico rosa o celeste questo sarà il prossimo progetto per questo mese credo che mi ci vorranno in tutto forse 7 8 gomitoli sarà una tutina con un punto un po rialzato un po rilevato che consuma un po di filato in più però è molto morbido e molto bello ha un bell'effetto il punto poi naturalmente li vedremo più in là non appena sarà pronto dopo di che invece andrò a realizzare un abitino da bimba sempre da neonata perché ben sapete io amo le creazioni per i bimbi piccoli per i neonati è una delle mie passioni grandissime è vero che a volte realizzo anche i capi da adulto giusto quando ho un'ispirazione in più ma la maggior parte comunque tendo a lavorare per i neonati perché mi piace tanto e quindi andrò a utilizzare uno di questi due colori ancora devo decidere quale prendere forse prenderei il salvia perché ormai la tutina sarà fatta con quest'altro quindi sembrano tutti un po troppo uguali ma non so comunque dei colori che mi piacciono molto e i colori diciamo così un po moda di quest'anno sia il salvia che il colore tortora e vorrei realizzare un abitino da neonata in questo caso andrò a utilizzare il filato lana gatto vip quindi nella percentuale abbiamo 80 per cento di lana merino extra fine e 20 per cento di cashmere si lavora con i ferri piccolini sottili i ferri del numero 3 3 e mezzo quindi questi saranno i ferri che andrò a utilizzare forse più 3 e mezzo che 3 ma poi durante la lavorazione il campione andrò a decidere abitino vorrei farlo un po svasato e forse con un punto traforato con la classica linea raglan quindi con gli aumenti laterali però traforato un po dappertutto sia sul corpetto sulle maniche e su tutta quanta la gonellina ho già studiato un po il progetto ho già realizzato qualche calcolo quindi insomma devo soltanto decidere di quale tra i due colori dovrei scegliere voi quale scegliereste scrivetemelo nei commenti per farmelo sapere che colore preferite di più anche se devo dire la verità stando insieme i colori mi piacciono veramente tanto e forse forse farei qualcosa anche a rig da maschietto perché due colori si sposano che è una meraviglia quindi non appena avrò deciso il colore andrò subito a partire con il progetto e realizzare questo abitino naturalmente più in lano non appena saranno pronti saranno tutti i tutorial pubblicati qui su youtube e un altro progetto ancora andrò a utilizzare il filato di lana gatto merino cot in questo caso abbiamo la composizione di 53% di lana verino extra fine e 47% di cotone quindi un filato proprio per semi stagioni per la primavera in arrivo e andrò a realizzare una copertina andrò a scegliere il colore bianco per questo caso perché mi piace il punto almeno credo che starà benissimo questo punto con il colore bianco è vero che sarà meraviglioso anche con il rosa con il celeste ma in questo caso insomma questo mese vedete sono tutti i colori un po neutri non andrò a utilizzare né rosa né celeste saranno tutti i colori un po un po così un po più diversi dai classici quindi come ho detto andrò a realizzare una copertina da neonato come sempre ci vorranno circa 8-9 gomitoli in tutto con un punto un po più traforato per prepararsi per la stagione primaverile in arrivo tra primavera e estate perché comunque è un filato misto tra lana e cotone per cui è ottimo proprio per questi periodi spero che verrà bene come me la immagino sicuramente sì poi vedremo naturalmente nei prossimi video io non andrò a realizzare i video tutte le settimane magari dei progetti che sto andando a lavorare però durante le nostre dirette su facebook giù nell'infobox troverete anche il link di gruppo facebook andrò a fare le dirette e quindi vi mostrerò piano piano la realizzazione un po di tutti i progetti qualcuno in meno qualcuno in più ma in ogni caso li mostro di solito lì ecco questi sono i capi che vorrei realizzare questo mese credo che sono sufficienti non andrò a creare altro perché comunque sono già tanti gomitoli insomma sì sono già tanti gomitoli penso che mi bastano e avanzano per cui questi saranno i progetti che poi naturalmente i tutorial saranno più in là quindi per il mese di marzo forse perché per il mese di febbraio ho già altri capi quasi pronti poi insomma vediamo un po' come va a finire la situazione con il tempo che ho a disposizione e quindi andrò a caricare tutti i tutorial vi ricordo come sempre non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere i tutorial in uscita commentate il video se siete curiosi su ciò che sarà pronto in questo mese se vorrete vederlo e con questo vi saluto come sempre grazie mille per avermi seguito e ci vediamo nel nostro prossimo video grazie mille per avermi seguito Grazie a tutti